Ciao ragazzi e bentornati con un'altra news su DayZ Standalone. Prima di tutto una piccola notizia, Rocket, il creatore di DayZ, al momento si trova a scalare il monte Everest. Questo progetto è un progetto che prenderà due mesi. Si scusa dicendo che ovviamente non è fenomenale il fatto che lui si assente per due mesi, specialmente in questo periodo, ma che il viaggio per scalare il monte Everest era un sogno che aveva da una vita e che aveva già prenotato e che costa 100.000 dollari, fino a 100.000 dollari e che non sono rimborsabili. Questa ragazzi mi sembra una grandissima stronzata. Vi spiego perché. Perché va bene, magari sarà bene di famiglia, magari avrà avuto soldi, tutto quello che vuoi, però non c'è una possibilità al mondo che una persona normale con uno stipendio normale si possa permettere prima di diventare sviluppatore, creatore di DayZ, di pagare 100.000 dollari per un viaggio di due mesi per scalare il monte Everest. Quindi questa deve essere stata una cosa che lui ha prenotato dopo essersi impegnato con DayZ. Molto probabilmente l'avrà prenotata verso novembre, quando credevano di finire DayZ per Natale e poi è rimasto fregato. Sono sicuro che lui tornerà dicendo l'esperienza fatta scalando, l'Everest mi ha aiutato, mi ha arricchito, ha preso un sacco di cose sulla sopravvivenza, introdurremo cose sulle montagne, perché già parlava che stava facendo un corso per scalare scale, minchiate, boiate del cazzo. E questa esperienza alla fin fine mi è servita anche per DayZ, però per me sono cazzate. Va bene? Ok, quindi partendo da questo. Scusate, ma come chi mi segue sa, io non sono un fanboy. Mi piace DayZ, mi fa cagare WarZ, però quando si sbaglia su DayZ lo dico, così come quando si fa bene su WarZ lo dico. In questo caso la cosa mi ha dato parecchio fastidio, visto che io e voi siamo qua che aspettiamo. Anche se con tutte le cose dette durante questo blog fa capire che il team messo insieme alla Bohemia continua a lavorare alla grande, mi dà fastidio. Comunque, ora cominciamo con la news, vi tradurrò quello che è stato scritto e vi farò sapere a che punto siamo, prima di farvi morire dalla curiosità. Comunque siamo a buon punto da quello che si legge nella news. Va bene? Ora cominciamo con la prima. Per quanto riguarda il lavoro su DayZ, la struttura del server client da cambiare in Mo è quasi pronta. Girka che è uno dei programmatori sta lavorando all'integrazione di DayZ con Steam e questo ha fatto un sacco di integrazione del nuovo inventario durante lo scorso mese perché insomma l'inventario, come ben sapete se mi seguite, è stato ridisegnato e rivisto in modo più approfondito. Per quanto riguarda la radio, l'implementazione della radio sembra funzionare bene, si possono raccogliere nel gioco delle radio, settare su una certa frequenza, parlare e parlare con altri giocatori o si possono anche lasciare, questo è importantissimo per il gameplay ragazzi, delle radio, diciamo dentro una stanza, solamente in ricezione, spegnendo gli altoparlanti ed usarli come quando si usa un baby monitor per vedere se il bambino piange, quindi io potrei ad esempio lasciare in una stanza una radio, vedere se qualcuno vi entra e nel caso qualcuno c'entri portarmi in posizione per ammazzarlo quando esce, ad esempio, oppure anche lasciarlo con lo speaker e fare un po' di rumore per attirare qualcuno, io essere messo fuori dalla struttura quando qualcuno entra sparargli alle spalle, questi sono consiglietti da persona cattivella quale sono io. Per quanto riguarda le animazioni, sono state fatte nuove animazioni per gli zombie che servivano per, non solo per rendere il movimento degli zombie più bello, ma perché ricordiamolo è stato fatto un nuovo scheletro che porterà molti vantaggi sia per il personaggio, nel movimento di come funziona per ora al momento per i giocatori, quando dobbiamo scavalcare staccionate, saltare, fare dire, perché ora si salta pure in DayZ, e anche per gli scheletri degli zombie che insomma si dovrebbero muovere un pochettino meglio. Per quanto riguarda l'arte e la parte artistica del gioco, sono stati messi in movimento al lavoro, un sacco di persone sia pagate, sia parte della comunità che ha fatto gratuitamente per creare delle storie, delle storie per quanto riguarda l'apocalisse in generale, cose così, e queste storie insieme a un sacco di libri il cui copyright è scaduto verranno integrate in DayZ, e le persone li potranno leggere proprio in gioco, parla di centinaia se non migliaia di storie. Per quanto riguarda il Pathfind, quindi il modo in cui si muovono gli zombie dentro le strutture, dicono che stanno lavorando per la maggior parte su dei dati che richiedono gli interni per far sì che gli zombie si muovano meglio, e che sono anche state rifatte delle strade per renderle con un look più vissuto, più abbandonato. Avete presente ad esempio il film I Am Legend, quello con, come Caspia si chiama, quell'attore di colore, bravissimo, non mi viene in questo momento, Will Smith, con le strade, con l'erba cresciuta, questo credo che stiano facendo. Per quanto riguarda sempre gli artisti interni alla compagnia, stanno ancora migliorando il sistema di crafting per poter fare cose come via attachment, quindi cose che si attaccano alle armi, quali torce, silenziatori, eccetera, rendere il sistema di crafting ancora migliore. Anche alla radio ad esempio si possono attaccare dei auricolari per non far sentire alle persone intorno quello che si sta facendo. Per quanto riguarda anche i nuovi oggetti che stanno creando di vestiario, stanno lavorando su maschere a gas, il metti da pilota, dei fucili quelli di mouser, carta e penna, l'aprilatte, questo per quanto riguarda le lattine di fagioli, tonno, tutto quello che vogliono fare, e in generale un sacco di cose stanno venendo create per quanto riguarda gli oggetti in gioco. Per quanto riguarda le scene della mappa, hanno comprato dei nuovi dati satellitari per migliorare anche da lontano e da vicino il look della mappa, quindi sembrerà molto meglio, dice che rimarremo sorpresi quando le vedremo. In conclusione, quello che dice, scusate questa news, sto andando abbastanza velocemente, perché questa news è un insieme di cose che sapevamo, ma fa il punto della situazione, dove sono ora. Di nuovo si scusa Dean dicendo, ah, io lo so che non è il migliore dei momenti per essere andato a scalare il cavolo di Monteeves del cazzo, però questo dimostra che il team, insomma, sa lavorare benissimo e sono in connessione satellitare con loro, do autorizzazioni e boiate e cazzate varie. Quindi non vi preoccupate, il gioco dice, sarà pronto quando sarà pronto, questo è il subito, l'abbiamo sentito noi centinaia di volte, però ha anche ragione, quando è pronto, meglio un gioco pronto, insomma, che una schifezza che non si può neanche giocare perché crasha. Comunque, dice, l'unica barriera rimasta fra la pubblicazione nell'alpha, praticamente, e poi lo sviluppo con la beta, eccetera, eccetera, è semplicemente rassicurarsi che i dati del server e gli oggetti, eccetera, eccetera, l'hacking non avvenga. Quindi appena sistemeranno, e questa è l'ultima cosa veramente importante per loro da sistemare, e poi possono rilasciare un'alpha, magari pubblica, oppure a pagamento come arma 3 alpha che si paga e poi si prende il gioco completo, quando si assicureranno, insomma, che non ci siano possibilità per gli hacker di hackerare il server e che i dati comunque vengano conservati in modo opportuno. Quindi ragazzi, scusate, questa news è abbastanza veloce, però questo è quello che è stato detto, metterò solo una foto di sfondo così la news l'avrete subito. Se questa è la prima news che avete ascoltato, andatevi a guardare anche le news passate perché ci sono molte, molte novità. Questa di qua sarà la news forse più semplice, per chi non ha mai visto le mie news, c'era solo una foto di sfondo e io che parlo la sto facendo così su due piedi, mentre traducevo in tempo reale all'inglese, quindi scusate le esitazioni però. Se non siete ancora iscritti al canale, perché non iscriversi? Faccio un po' di cose, date un'occhiata. Ricordate di dare un piace se il video vi è piaciuto, grazie e alla prossima, ciao!